Quarta trattativa in entrata, come anticipato nei giorni scorsi, Delicari ha chiuso per il 22enne terzino Roberto Pierno, contratto triennale, operazione titolo definitivo, a Lecce il 30% sulla rivendita futura. Oltre 70 presenze in Cicon a Catanzaro, soprattutto Virtus Francavilla, 65 gettoni, laterale di spinta, piede destro, Pierno può giocare indifferentemente anche a sinistra, calciatore insomma molto offensivo. Nelle ultime due stagioni con la Virtus Francavilla, allenatori Taurino e Calabro, Pierno è stato sempre utilizzato da quinto nel 3-5-2, nell'Under 17 del Foggia e nella primavera del Lecce ha invece giocato da terzino nella difesa 4. Si tratta del quarto innesto nell'ordine Nicolò Squizzato, centrocampista classe 2002 a titolo definitivo dall'Inter, 40% sulla rivendita futura a favore del club Nerazzurro, Michele Masala, attaccante classe 2004 svincolato dal Cagliari, il centrocampista estone Georgi Tuniov, classe 2002 svincolato dalla Spal, appunto Roberto Pierno, terzino destro a titolo definitivo da Lecce, a cui viene riconosciuto il 30% sulla rivendita futura. Lunedì prossimo il club chiuderà per il ritorno di Davide Merola, operazione a titolo definitivo con una percentuale sulla rivendita futura ancora da stabilire a favore dell'Empoli. Non si registrano passi avanti circa la trattativa per l'ingaggio dell'esterno d'attacco Simone Russini di proprietà del Padova per il ruolo di vice plizzari in pole position, resta il 27enne Massolo del Palermo.